Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui perchè vi devo far vedere una carta pokémon Che ho cercato su youtube E ho trovato che costava 10 euro Cioè pazzesco Allora Dovrebbe essere questa qui Cioè non dovrebbe essere E questa qui No Troppo 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 Ok Hanno cercato e costava 10 euro Ovviamente è messa Dentro la fotelina Vabbè penso che la dobbiamo Uscire Questa qua è la fotelina Questa qua è la carta Mamma mia Mamma mia Rimettiamo la fotelina Allora con una mano Un pochino Aspettate ragazzi Ok ragazzi E quindi Ci vediamo A un prossimo video Ok Così E quindi ci vediamo A un prossimo Girata Ci vediamo A un prossimo video Ciao Ciao